Comunque non abbiamo vinto assolutamente niente, l'ho detto ai ragazzi ora nell'urlo che non dobbiamo festeggiare perché anche se secondo me questa è stata un'impresa di parte nostra, manca tutta un'altra partita che come noi abbiamo vinto qua, loro hanno la squadra per vincere là, secondo me anche più dobbiamo essere più concentrati che se avevamo perso perché questo ti dà un po' di fiato e qualcuno può pensare che siamo rilassati ma non deve essere così, per forza dobbiamo mettere il 110% di quello che avevamo e lasciare tutto anche per dargli una gioia a tutte queste persone che sono venute qui, dieci ore di Pullman che veramente se lo meritano loro, i ragazzi, la società e tutti. Infatti il vostro pubblico oggi è davvero stato numeroso, vi ha sostenuti, in casa sarà ancora più caloroso. Speriamo di sì, sicuramente, però come ti ho detto prima, se devo lasciare un messaggio per tutti è che siamo calmi e che pensiamo ancora a vincere perché questo non vuole dire assolutamente niente ha finito il primo tempo, più uno per noi e questo non vuole dire che abbiamo vinto lo scueta e come ti ho detto prima, dobbiamo essere ancora più concentrati, con la testa a terra e giocare più forte che possiamo per vincere questo cubetto in casa che come ti ho detto se lo meritano tutti. Sì, è stata una partita molto difficile, d'altronde lo sapevamo, negli ultimi anni è sempre finita così più uno, meno uno, il fattore campo è anche abbastanza relativo, noi siamo magari una delle poche squadre che può avere qualche possibilità di vincere giù e cercheremo di provarci sabato prossimo. Una prestazione che vi ha visti inseguire Fasano quasi per tutta la partita? Sì, io credo che il problema principale sia stato il primo tempo, gli abbiamo letteralmente regalato il primo tempo secondo me, dove potevamo fare qualche gol facile in più e invece non siamo stati svegli e bravi a sfruttare il loro rientro magari in difesa che all'inizio era non buono, secondo me, almeno io avevo visto un po' di spazi però sono cose che succedono, pensiamo già sabato prossimo e basta. Esatto, adesso c'è una gara a due da preparare. Sì, sì, da preparare, ormai da preparare c'è ben poco, c'è da andare lì con la testa giusta e cercare di giocare come abbiamo giocato a Sprazzi oggi, quindi magari quei dieci minuti che abbiamo giocato oggi cercare di trasformarli in 30-40 minuti di buona palla a mano lì e secondo me avremo le nostre possibilità poi vincerà chi meriterà ovviamente.